Musica Quello che vi ho appena mostrato ragazzi è un dip a terra con apertura e chiusura delle gambe Come fare per eseguire questo esercizio? Allora andiamo a sederci sul tappetino Posizioniamo il pollice quasi completamente sotto il nostro gluteo Cercando di tenere i gomiti belli stretti al corpo andiamo a sollevare i nostri glutei Non dobbiamo portarci troppo lontano quindi io mi porto su e cerco di mantenere più o meno questa posizione Controlliamo di avere il nostro gomito in linea alla spalla Quindi tenendo il palmo della mano bello appoggiato sul pavimento Piego i gomiti senza toccare mai a terra completamente con i glutei Ritorno a stendere completamente il mio braccio e vado a fare un'apertura con la gamba destra, un'apertura con la sinistra, chiudo destro, chiudo sinistro e ancora giù dip Ritorno a stendere il braccio e facciamo apertura, chiusura, chiudo E ancora giù torno, uno, due, tre, quattro Quando eseguiamo il dip non dobbiamo mai poggiare a terra il gluteo Mentre quando eseguo l'apertura e la chiusura non devo andare a muovere il bacino Quindi io rimango ferma con il bacino ed effetto la mia apertura e la mia chiusura di gamba Ciao e buon allenamento